Lavoro a Montevarchi, vivo a Siena. Ecco perché siete qui oggi per questo concorso? Per il tempo indeterminato. Io personalmente ho già fatto il concorso scorso, però ho un tentativo di rimanere in una graduatoria anche per il Policlinico. Oltre mille medici da tutta Italia è caccia della posto fisso. All'Arezzo Fiera i congressi sono infatti ripartiti i concorsi in sanità. Sono medici che oggi per l'appunto di chirurgia concorrono per un dirigente chirurgia e quindi arrivano non solo dalla Toscana ma anche dal resto d'Italia. Da domani avremo tre concorsi per tre giornate per alcune specializzazioni di veterinaria. Gli spazi di via Spallanzani ospitano così ancora una volta le selezioni di Estar indette dalla regione toscana. Ci siamo fatti trovare pronti con tutti i protocolli di sicurezza. Siamo stati fra i primi in Italia a riaprire e con tutte le sicurezze, seguendo le ordinanze, i decreti, tutto quello che è uscito in questo periodo. Indossare la mascherina, usare il gel disinfettante e mantenere la distanza. Queste le principali misure anticontagio. I concorsi sono infatti ripartiti in tutta sicurezza. Innanzitutto Estar in questo caso ha convocato i candidati in modo scaglionato. Quindi scinizzazione delle mani, cambio della mascherina che hanno al seguito, quindi con una mascherina nuova e rilascio di una dichiarazione con tutte le dichiarazioni del momento e poi anche la misurazione della temperatura. All'interno abbiamo allestito i desk, come vedete, con una distanza, quella dall'ordinanza del Presidente della Regione Toscana, che sancisce un metro e ottanta fra banco e banco.